buongiorno benvenuti nel daily blog di oggi oggi iniziamo questa giornata buondia e noi si qua e ora faremo un po di tiktok che vedrete sui nostri profili noi siamo tinky winky e dipsy in the building diamo come escono 25 anni abbiamo lasciato gli altri a casa per preparare le cose della live di halloween e io adesso non penso fuori sono diventato il main character cosa posso fare vabbè mi sono sposato quindi viaggio di nazi che stiamo facendo noi stiamo facendo un trattamento rivitalizzante per la cute sono tutti travestiti tranne noi abbiamo fatto un video vestiti da teletubbies e poi un cazzo palloncini del bronx ci mettono la chetanina dentro stiamo facendo la live del rosso sono mi raccomando mi raccomando mi hanno scritto le ragazze fra dieci minuti sono qua si siamo ancora ancora qua ragazzi ho passati 40 minuti ma quando che arriviamo ormai più di un'ora che siamo in macchina c'è un traffico per fortuna c'ho il mio miglior amico che mi aiuta mi ha appena fatto salvare i cibi tipici del suo posto so veramente una hit complimenti muy bien I love it I love it thank you so much raga ovunque stanno hanno questo poliziotti raga mi sono travestito da da fantasma ghost infatti adesso adesso nessuno mi vedrà perché io sono l'uomo invisibile sta ubriaco fracico raga non sai che caso sto dicendo ve lo giuro però dobbiamo trovare un modo per andare in quella ambulanza del territorio è fighissima ok ci penso io sono fatto male si è fatto male non è bello frate no follia guarda la parata abbiamo scavalcato abbiamo scavalcato ragazzi abbiamo scavalcato siamo in mezzo alla parata guardate eccoci qua fatica in mezzo ai fan che follia parte un fottuto cane due avocati eh 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 c'è un bambino c'è un bambino piccolo follia due clown no frate c'è spongebob oh my god a f***ing spongebob non è spongebob è spongebob porca troia sono Patrick perché sono un f***ing star sempre esagerato guarda chi c'è qua è burro 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 è burro 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 è burro 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 noi cioè io stai spezzato dobbiamo stare qua dovremmo stare fuori in mezzo alla folla ma ci siamo imbucati con tanto di fotografi follia ci siamo imbucati in mezzo a la parata effetto dove c'è la gente letteralmente mascherata non so se potevamo abbiamo scavalcato però ci sono un botto di clown un botto di gente da coniglietto il mood è strano palloncini alieni e fuori ci sono tutte le persone dove dovevamo stare noi questa roba che è c'è un po' di palloncini addosso frate occhio è un po' di palloncini eccoli qua follia guarda chi c'è là bro tu molla tu molla hai ma c'è 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 la ballano io non ti vado bello bellissimo frate 10 punti brutto come la fame porca puttana ma che è occhio alla testa che occhio alla capace con il cervello frate però le zin ma che hai fatto sei tutto sciucco per sempre tatuato aspetta se non rimorchi stasera non rimorchi mai più non mi ricordo che sei vantico faccio già si sono sbragati sai che significa questo? che vuol dire? ma dici questo? è scorpione perché io sono cuspide infatti io voglio andare a casa ti prego fammi andare a casa però no tu devi stare qua con me vuoi andare a casa? non ce la faccio più ah fai la clip finta che vai a casa ora ma in realtà stai qui ok? te lo giuro mi attendo ti sono impegnato a convincere tutti per venire dai andiamo a cercare sespo MVP ami staserata MVP come sei? sono superman bro hai venuto in Italia? Roma 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 forza Roma beso a tre datevi un beso a tre non sono neanche mezzanotte e mezza e soggetto non andando a casa da solo ma nessuno voleva andare a casa con me come mi devo via Uber da solo e mi devo fare 40 minuti di strada da solo ollea mi scalla che sbratta l'Uber costa 130 euro quindi ho pisciato e alla fine sto tornando dentro mi sei mancato bro sono tornato per te perché? perché mi mancavi hai fatto vedere il video? no mi mancavi mi mancavi ciao serata finita stiamo tornando a cioè stiamo solitamente tornando a casa in Uber da solo perché gli altri non volevano tornare vogliono rimanere a far serata solo che posso dire la verità fare serata da fidanzati sovravvalutato una noia mortale mortale buon anno ci siamo divertiti gli altri stanno ancora là a far serata io adesso vado a nanna noi ci vediamo domani mattina vediamo cosa fare buonanotte niente raga buongiorno io vi dico solo grazie di aver visto questo nuovo daily vlog ci vediamo domani alle 6 stessa ora stesso posto io vi mando un bacione gigante mi raccomando mettete like 10.000 like finisco la canzone e noi ci vediamo nel prossimo video